Oggi facciamo ragionare che ci danno il doppio, e cioè 3 miliardi e 200 milioni per chiederci scusa, per averci voluto prenderci in giro o se fa la negativa, sai, ti deve parlare di che cosa deve parlare. Il cuore di un politico è che non deve essere appena tutta. Ma via di qua, ma via di là, noi siamo in volto nella Sicilia onesta, leggi più dure, 41 bis, la mafia fa schifo. Lo Stato non cederà al ricatto, non scenderà a patti con la mafia. Ma via di qua, miserabile! Senti, miserabile! Aviste la vita in cucchiaio a finire! Quante volte avete tradito questo Stato che non deve scendere a patti con la mafia! Aviste la vita in cucchiaio a finire, decretare! La mafia fa parte di questo Stato! La mafia fa parte di questo Stato! Io ti faccio! La mafia fa parte di questo Stato! La mafia fa parte di questo Stato! La mafia fa parte di questo Stato! È una cosa che si rilisiva! Grazie a tutti